Notte prima degli esami, cantava Venditti, e questa notte, quella del solstizio d'estate, la più lunga di tutto l'anno, sarà davvero la notte che precederà la prima prova della maturità 2016. In Migliaia, anche nel Bassanese, domani affronteranno lo scritto di italiano, scegliendone le sei ore messe a disposizione, tra analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, tema storico o di ordine generale. E come sempre, anche quest'anno alla vigilia si sprecano i pronostici sulle possibili tracce, Dante, Verga, Saba, ma anche gli insospettabili Baricco, Dacia Maraini e Andrea Camilleri, compaiono tra le indiscrezioni dell'ultima ora di esperti e studenti. E in tema di studenti, tra quanti affronteranno la prova di maturità a Bassano, ce n'è uno che merita assolutamente una citazione, è Herman Pritzing, nato in India, ma di nazionalità italiana, studente della Quinta B scientifico del Brocchi. Questo ragazzo, che vive a Cassola e che sogna la laurea in fisica, è arrivato agli esami finali con una pagella di soli dieci. A noi che volevamo intervistarlo ha chiesto di risentirci dopo gli esami, cosa che faremo? Intanto auguriamo a Herman Pritz e a tutti i maturandi un grosso in bocca al lupo.